We are in guys Finally In un gioco, però non si, dov'è il titolo? Lo diciamo noi Ciao amici, lucky iscrizione perchè non sappiamo farle intro Comunque, a parte questo, siamo in Home Sweet Home Allora ci vuole una piccola premessa Perchè sia io che il Wompark Siamo due cagoni pazzeschi E' per questo motivo che abbiamo deciso di fare proprio questo video apposta Cioè nel senso che dobbiamo... Inizio di dimostrarvi Di farvi vedere quanto possiamo Fare schifo nella nostra vita Bando alle ciance Possiamo partire Iscrivetevi che siamo belli Abbiamo visto un trailer e ci siamo Poi siamo andati in bagno Baby, wake up Buongiorno Buongiorno, buongiorno Non ci voglio andare a scuola Altre 5 minuti Come è la storia di una vita Jane? Che casa di merda porco Col tab guardiamo Oh ma abbiamo un libro che ci dice le cose Find a way home Dobbiamo trovare casa Si in effetti io qui non ci vivrei mai nella vita C'è una muffa lì cacchio Cioè qui altro che Corona Mi ti viene l'ebola diritto proprio E' proprio la casa in cui vorrei vivere L'HIV non ti diverti neanche E E Ok Era indeciso sull'accucciarsi Io lo so che c'è qualcosa lì dietro Non ci voglio andare Tira fuori la torcia No Jack Vaci accucciato che non se l'aspetta Allora in caso di disperazione facciamo come i bambini al cinema Va bene? Regguitiamo di brutto Così Ok Buongiorno Ok vedo dell'altra luce E sento la musica inquietante No Jack dai Puoi correre vero? No Non sa correre Ok non c'è niente Prova di Ma dovresti esplorare Guarda le foto C'è una radio accesa Ok niente No No Perché si è spettato Perché si è chiusa la porta Già Già che ho paura a spegnerla Perché so che viene fuori qualcosa Sono pronto vai Riaccendi la radio Almeno c'è un po' d'audio Io vado a dire tu Ehi C'è un Mortitude Che lingua è? Qualcuno ci traduca Chiave Abbiamo la chiave di qualcosa Che chiave importante No 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 Anarne Anna Io vado Cazzo durissimo Uh Perché c'è la nebbia? Find the way home Questi hanno fumato fortissimo qui dentro Non possiamo tornare indietro Posto No no Cosa succede? Siamo morti Tranquillo No 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 dai Eccolo la signorina Salve si chiudi la porta Andiamo Find a girl to ask a Ma perché gli devo chiedere? Ma sei fuori di testa Cioè vedi una tizia con un piede nero Cioè non per dire che Non nel senso di colore Nel senso che Non è quello il problema Lo devo fare qui cos'ha? All chief run All chief run Oh no perché ti spiegano come corro Ascolta ci facciamo ammazzare e basta Ecco c'è del rosso sotto Non andare del rosso Prendi Ma se prendiamo il Non hai un'arma niente Prendi il coso L'estintore Esatto Vai se lo dai in faccia è utile Non lo puoi prendere Ma porca Provate ad entrare nella porta Magari c'è Magari lei No magari c'è un posto con il suo Magari non puoi entrare perché Ma c'erano anche le luci lì di fianco Non ti fa entrare Che dolore Porca madre Che caccona È un brutto gioco smettiamo Mi ha preso un colpo Ma lei c'è stare Dai io vado a cazzo duro Vieni fuori Vai 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 La pestiamo Dove sei? Non c'è Non c'è Signorina buongiorno Hola Chi l'è? Che posto di merda La signori Signorina Mi scusi Dove sei? Signo Signorina È il bagno Bussa Ok scusi non volevo disturbare Vado via Oddio Ce l'aspettiamo troppo ripeto Ci sono due porte E sveglio il personaggio principale vedo Immagino sia qui No non è andata lì E qualcuno si è spiaccicato È lì dietro È lì dietro Nooo Ma quella non c'era prima Appunto Guarda sopra di te Ok No Non dirmi queste cose No Già sono di cuore debole Già sono di cuore debole Ma ma più di uno Perché è tutto fatto a porta Ecco signorina buongiorno No 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 Vattene Fuck Ah Ci stiga Vai via Vai via Sei incastrato Sei incastrato Sì Ora sei già cosa succede È dentro Bene Corri guardissimo No L'altra porta L'altra porta Nasconditi Nasconditi No era Era l'armadietta C'era l'armadietto che potevi cliccare Ma sei una troia Oh cazzo il muro Corri stanza di fia... No devi arrivare in fondo Cercare di aprirla, girarti Vai, apri C'è l'armadietto? No, girati quello No, ma che cazzo fai? Ehi buongiorno E la cosa bella è che neanche lei Penso sia tanto sveglia Perché se nel caso ci riesci Entri, chiudi l'armadietto E lei entra, una stanza vuota Quoziente intellettivo pari a 3 Ma che cazzo Non so neanche come si muove Lui pari adesso Questo urla straziante Ti fa cagare addosso Guardalo che pro player Guardalo Questi sono i mesi di Apex Porca droia Signorina buongiorno No, non sono qui No, no, dai Sì, quotiente intellettivo pari a 3 Non puoi spiare Cosa? Ma questo si spiega nelle pareti Ha passato il muro Porta Ma dai, ma peggiora Cazzo, però buttateli su ogni tanto Chissà come la puoi aprire Vai a cercare la chiave Allora di là non ci posso andare C'è un buco solo Ah, ok No, c'era il corridoio Buongiorno Ecco All'accettazione questa Ah, la reception Buongiorno Io mi immaginavo tipo un corpo morto Eccoci qua Buongiorno Buongiorno E dove vai? Sinistra Sinistra Apri, apri, apri Apri Ah, ma ti fanno prendere la cagata Per la pozza di sangue Però io stavo lì ad aspettare 3 quarti d'ora Adesso lui non è uscita Voleva solo farmi entrare Ah, non mi freghi Pezza di fanga Adesso esco Non puoi E ci sono degli armadetti Io ti micificherei dentro subito Non ci sa mai Istinto di sopravvivenza È un portale È un portale Tipo warp Penso che abbia un serio problema Con le sue cose La signorina Broccatroia Guarda qua che cammino Che fa Ah, è un hotel No, ci sono gli specchi È più l'assicurante Altro water Ah, è per add... Cioè, veramente avete messo... Ma va a cagare Io la lascio a... Io sto già cominciando a innervosirmi Perché non c'è troppe porte Io ho già capito che porteremo molti horror No Buco Signorina, buongiorno Allora, è entrata qui dentro È entrata lì dentro Quindi io entro di qua No Ecco, a posto Vedi che ci ho preso Come cazzo si... Si ci si è cominciato Ehm... Esatto Sì, ma io non so... No, 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 dai Dimmi che questo si apre No, non posso nascondermi Piede di porco Wonderful Posto Posso aprire... Adesso sarà fisso da qualche parte Ecco, a posto Non posso più muovermi Non puoi? Metti via la torcia Bravissima Ma qui deve... Ma mi scusi Ma troppo lì Ma c'è il water lì Merda Simpatica Siamo noi che non capiamo il suo umorismo A coltellare la gente È divertente Siete che non capisco Allora, io direi Apriamo questo E ci leviamo da cazzo E poi per oggi Chiudiamo il video Ok No Danger must get out of this place Insomma T'ha già levato Bene signori Direi che per questo episodio È tutto E alla prossima Cacata in Coggio La cesta Lascia stare Mettete un like Per sostenerci In questa cosa Io sto già crepando Stiamo malissimo Oddio In realtà Non è che stiamo malissimo È perché noi ci caghiamo sotto con poco Cioè nel senso C'è questo problema Siamo dei cagoni incredibili Bene ragazzi Mi raccomando Like, iscrizione Condividete Se volete vederci Cacazzarci ancora in mano Raggiungiamo i 5 like Sì Tanto alla fine Saranno i nostri genitori I parenti No però Che vogliono Esatto Lei e le 4 sue amiche Che Non la vedete in video Ma c'è anche la mia amorosa E Alla prossima puntata E mi raccomando Giocateci con le luci spente Come facciamo noi O rosse Ciao 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 ciao